Tre barzellette per brindare al divertimento con un sorriso. Un poliziotto ferma un'auto e dice all'uomo, ho sospetti che lei sia ubriaco. Facciamo il test dell'alcol. L'uomo sorpreso risponde, ah, meraviglioso. E come funziona? Tipo domanda e risposta o scelta multipla. Un ubriaco barcollante cammina vicino a un lampione e inizia ad accarezzarlo dicendo, ti sei fatto male? Passa una persona e gli chiede, ma cosa fa? E l'ubriaco, ma non vedi? Questo lampione si è sbattuto contro di me. Un uomo molto ubriaco entra in un taxi e il tassista, capendo la situazione, accende il motore, lo spegne e dice, siamo arrivati. L'ubriaco gli dà una mancia e scende. Il tassista sorride, ma poi vede l'ubriaco tornare verso di lui e pensa di essere stato scoperto. L'ubriaco gli poggia una mano sulla spalla e dice, la prossima volta evita di correre così tanto, abbiamo quasi investito quattro persone.